ciao buonasera già buonasera già buonasera cosa cosa pensi cosa passa nella mente di cosmina adesso ma sicuramente siamo un focus tecnico in testa per domani le condizioni che abbiamo provato oggi sono abbastanza difficili penso che domani saranno ancora più difficili come sono per momento le previsioni ognuno dentro di noi in testa sta ragionando sulle soluzioni tecniche le possibilità della barca come gestirle in certe condizioni che forse non sono proprio il massimo favorevoli a noi di vento le vele che abbiamo a disposizione proprio il zero vento non è che il massimo per noi domani come vedi la partenza penso proprio questo sarà uno dei momenti clou perché con un poco vento zero vento alla partenza le difficoltà aumentano poi se la barca si riesce a muovere hai più probabilità di gestirla se invece non ti muovi bene allora lì i problemi cominciano cominciano seri perciò speriamo che sia abbastanza vento almeno di poter uscire bene fuori dalla partenza e poi aprire una regata in modo decente grazie 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 a voi grazie a tutti